Se vi dicessi che siamo stati il fanalino di testa per quanto riguarda l'accessibilità web, quanto mi credereste? Perché lo siamo stati. E oggi vorrei ripercorrere con voi un po' quello che è lo stato dell'arte dell'accessibilità web, partendo anche dalla legge del 2004-2003, portata avanti da Lucio Stanca, e rispondere alla domanda come si è evoluto il concetto in questi anni. Attualità, informatica, mondo del web. Questo è tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno. Quasi ormai dieci anni fa, nel 2003, il web era poco conosciuto. Era poco conosciuto dovunque, ma era già visibile che fosse un'innovazione incredibile. E qui in Italia un politico visionario si è chiesto, perché non rendiamo questo web accessibile adesso che volendo la tecnologia c'è? E quindi è da questa visione che nasce la legge stanca del 2004. Quella che poi obbligherà in futuro, con una serie di modifiche, gli enti pubblici, in realtà i servizi pubblici, a essere obbligatoriamente accessibili. E accessibili vuol dire tutta una serie di caratteristiche che deve avere il sito web, per cui qualsiasi tecnologia assistiva con qualsiasi disabilità ti possono comunque rendere fruibile il sito. Oltretutto la legge stanca introduce due concetti. Vedusti quanto vuoi, ma comunque importanti per vent'anni fa. Ha definito accessibilità come la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare e fornire servizi e informazioni fruibili senza discriminazioni. Anche nei confronti di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. E poi introduce anche il tema di che cosa siano, anzi cosa si intende quando si parla di tecnologie assistive. Definisce le tecnologie assistive come gli strumenti e le soluzioni tecniche a hardware e a software che permettono alla persona disabile di superare o ridurre le condizioni di svantaggio al fine di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. In pratica ha gettato le basi perché si potesse creare un web più equo, almeno qui in Italia. E da lucio stanca non ci siamo fermati. Facciamo un passo di qualche anno e entriamo quatti quatti nella sede dell'ONU. Nel 2006 è arrivata la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, la CRPD. Questo trattato internazionale adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2006 appunto rappresenta il primo strumento giuridico vincolante a livello globale che si occupa dei diritti delle persone con disabilità. Ed è uno dei documenti che esprime il concetto di disabilità in modo veramente inclusivo, secondo me, super poetico. La Convenzione definisce le persone con disabilità come coloro che presentano durature o temporanee menomazioni fisiche, intellettive, mentali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura abbiano difficoltà a partecipare nella società. E il concetto è davvero interessante perché in questo documento viene anche definito che la disabilità può anche essere dovuta al contesto. Anzi, in realtà il contesto svolge un ruolo assolutamente rilevante nella definizione di disabilità. Perché se per andare in un negozio io devo fare tre scale, ma ho la carrozzina, mi sentirò inabilitato a quella cosa. Se c'è la passerella, sono come gli altri e la disabilità quasi non si sente. La CRPD quindi svolge un ruolo fondamentale per quanto riguarda il definire, almeno scritto nero su bianco, la promozione, la protezione e la garanzia del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità, promuovendo il rispetto della loro dignità. Il documento è composto da 50 articoli divisi tra principi generali, diritti specifici e questioni relative alla loro implementazione e monitoraggio. Quindi gli stati che ratificano la convenzione si impegnano a prendere misure legislative e altre iniziative sociali per attuare tutti quelli che sono i diritti riconosciuti da questa convenzione. Tra l'altro con l'obbligo di presentare rapporti periodici all'ONU dove notificano il loro impegno e i loro progressi fattuali. La convenzione riconosce peraltro che le donne e i minori con disabilità sono soggetti a discriminazioni multiple e richiede agli stati di adottare misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di queste categorie marginalizzate. Perché insisto tanto su questa cosa, sulla definizione di disabilità, sul fatto che questa convenzione obblighi, diciamo così, le istituzioni a prendersi un impegno? Perché senza quella in Europa oggi non ci sarebbe l'European Accessibility Act. Ma prima di entrare nel vivo di che cos'è questo European Accessibility Act dobbiamo guardare due documenti abbastanza importanti per comprendere che portata ha davvero questo atto europeo. I due documenti sono l'Accessibility Partnership Work Plan e il Task Force on Accessibility in the Internal Market Report. Il primo è un piano operativo elaborato dalla Commissione Europea che illustra le azioni che gli stati membri, l'Unione Europea e le organizzazioni non UE dovranno intraprendere per raggiungere gli obiettivi previsti dall'European Accessibility Act. Il secondo, invece, è un rapporto che esamina lo stato attuale dell'accessibilità nel mercato interno, evidenziando la necessità di ulteriori miglioramenti. Senza queste due cose non abbiamo né l'analisi d'ambiente né gli obiettivi a cui tendere. Quindi l'Accessibility Act sarebbe un po' monco. Ora guardiamolo però, questa Accessibility Act, che è veramente, veramente una di quelle cose super mega importanti per la nostra non solo navigazione sul web, ma proprio per la nostra navigazione nel mondo, reale, non reale, tutto quello che gira intorno al noi che utilizziamo uno strumento. Noi che ci interfacciamo con uno strumento. Questa misura legislativa mira a uniformare il mercato interno per prodotti e servizi accessibili, rimuovendo gli ostacoli derivanti da normative divergenti negli stati membri. Questa iniziativa non è solo vantaggiosa per le aziende, perché fornisce regolamenti uniformi sull'accessibilità, ma anche perché facilita il commercio transfrontaliero e crea maggiori opportunità di mercato per i loro prodotti e servizi accessibili. Il tutto risultando anche estremamente utile per le persone con disabilità e le persone anziane. Che in realtà anche le persone anziane hanno disabilità, però tanto per capirci. Le categorie infatti beneficeranno di un'ampia gamma di prodotti e servizi accessibili. Che ne so, si parlerà di accessibilità per quanto riguarda i trasporti, quindi magari quelle scale impossibili, anche no. Accessibilità nell'istruzione, quindi tutti quegli strumenti che servono per rendere la partenza uguale per tutti gli studenti, che è una roba, eh! Ma soprattutto anche per quanto riguarda il mercato del lavoro. E sì, poi casualmente il lavoro si crea anche per gli esperti di accessibilità, ma non è questo il focus. Quando prima ho parlato di rendere i servizi ai prodotti accessibili, può sembrare qualcosa di aleatorio, di non verificabile, ma stiamo proprio parlando di una lista di cose che devono rispettare un insieme di regole al fine di essere accessibili. Parliamo di computer, bancomat, smartphone, apparecchiature televisive, servizi di telefonia, i trasporti che citavo prima, servizi bancari e tutto quello che riguarda gli e-commerce e gli e-book, che devono avere una serie di accortezze abbastanza importanti sulla gestione dell'interfaccia utente. Quindi sì, tra due anni l'accessibilità, sia sul web che non solo, non sarà solo estremamente consigliata, è una scelta etica, ma sarà anche norma. E quando qualcosa diventa normato, puoi agire in modo più puntuale su quello che sono i mancati addempimenti. E quindi, se da una parte chi lo fa già adesso lo fa per uno sforzo etico, poi c'è sicuramente l'azienda che non l'avrebbe fatto perché è troppo sbatti, troppa noia, che adesso invece si trova costretta a farlo. E in realtà, quindi, vincono tutti, perché sei più accessibile, quindi hai più clienti, perché i disabili possono essere degli stakeholder, perché i disabili possono essere degli ottimi clienti. Perché escluderli a priori da un servizio di cui possono usufruire? Ma io mi fermo qui, non entro nello specifico su cosa dice l'Accessibility Act, su questo e quest'altro, vi lascio sicuramente i link che ho usato per scrivere questa puntata in descrizione, così si vede che non dico boiate incredibili. E comunque, se la puntata vi è piaciuta, io vi invito a mettere un bel mi piace, a seguirmi sulle varie piattaforme di podcasting, o anche su Telegram, lo trovate anche qui in descrizione. Quindi io vi aspetto, nei commenti oppure sul canale Telegram, con le vostre opinioni, i vostri punti di vista, le critiche che potete muovermi su quanto sia estremamente semplicistica questa puntata, super d'accordo, ma dovevo condensare un act bello corposo. Vabbè, ora mi taccio e vi aspetto davvero nei commenti, e mi aspetto anche che condividiate la puntata in giro, così, eh, condividetela. E ora però vi saluto, vi auguro una buona giornata, e ci vediamo a una prossima puntata! Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno.